Castellaneta Marina d'Arte, prima rassegna teatrale anno 2019-2020, Auditorium Stella Maris, Piazzale Kennedy, Castellaneta Marina. Gli appuntamenti 27 dicembre ore 19, Natale in Casa Cupiello, Compagnia Instabile, Napoli Scena. 11 gennaio ore 19, Canto di Natale, Obiettivo Successo. 18 gennaio ore 19, Canta Napoli, l'altra faccia della luna, Associazione Culturale, Ci proviamo. 1 febbraio ore 19, Questi Fantasmi, Compagnia Mario Scarpetta. 15 febbraio ore 19, Acquaterna, Compagnia Teatrale I Delfini. 29 febbraio ore 19, 2 su 3, Atto Unico di Fabiano Marti, Compagnia Teatrale di Lino Conte. 14 marzo ore 19, Pronti a tutto, Compagnia Teatrale I Delfini. 29 marzo ore 19, Noi i Taranto. Di e con Corrado Taranto. 15 marzo ore 19, Unico di Fabiano Marti, Compagnia Teatrale di Lino Conte.